E allora noi ora ci colleghiamo con la professore Fabio Fortuna, rettore di Unicusano, bentornato Fortuna. Grazie, l'invito. Allora, professore, l'inflazione che sale praticamente al 12%, in un solo mese ha realizzato più 3,5% di aumento, insomma un dato che ci ha spiazzato un po' tutti. Sì, direi un dato sbalorditivo che ha colto di sorpresa tutti, gli analisti si aspettavano un rialzo ma intorno al 9,6-9,7, quindi è veramente un dato che si commenta stento ma è riconducibile soprattutto al discorso energetico e anche all'aumento del prezzo dei beni alimentari. Certamente a questo punto bisognerà intervenire con le risorse a disposizione ma con tutte le risorse che si possono reperire perché la situazione è difficile nonostante il contrasto delle banche centrali. Ecco, professore, un dato che è sopra la media europea, quello italiano, sopra il dato della Francia che è ferma al 6%, cioè è tanto, ma è il 6%, la Spagna è il 7%, la Germania è uscita poco fa, il 10,4%. Insomma l'energia la si compra ovunque, perché in Italia è più cara? Sì, questo è un altro dato che per la prima volta si verifica, eravamo tra i migliori, sempre abbiamo fatto meglio di Germania e Spagna, non della Francia che è un'inflazione più bassa e questa volta invece tutto l'aumento dei prezzi sembra essersi concentrato sull'Italia. Qui la notizia degli ultimi giorni è che il prezzo del gas è diminuito fortemente e ancora non ha prodotto gli effetti, per cui speriamo che nei mesi a venire le bollette possano ridurre la loro entità in funzione degli accordi europei e della diminuzione del prezzo del gas. L'Italia ne è stata colpita in modo notevolissimo. In più ricordiamo, ieri la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse per tutta la zona euro ovviamente, di un altro 75 punti base, quindi tassi più alti, inflazione che corre, come si può fare, cosa si può fare? In questo momento le banche centrali, come la Fed anche, stanno contrastando l'inflazione e aumentando i tassi. Altre misure immediate non ci sono perché, come diceva il servizio, ormai siamo in una vera e propria stagflazione, quindi bisogna cercare di riaumentare la produzione di ricchezza. Qui un dato positivo è che la Germania doveva chiudere il terzo trimestre con meno 0,2, ha chiuso con più 0,3. Speriamo che succeda lo stesso all'Italia, per la quale si prevedevano due trimestri consecutivi negativi e speriamo che il terzo trimestre, lunedì, ci porti delle sorprese invece positive. Grazie, grazie professore Fortuna per essere stato con noi.